Durante la pausa pubblicitaria mi è stato detto che la Meliam sta inviando alle testate giornalistiche un comunicato. Siamo molto curiosi di vedere cosa c'è scritto, quindi vi daremo in tempo reale il comunicato della Meliam, ripeto, diffuso pochi minuti fa, che vi leggeremo come una primizia. Fino a questo momento c'erano stati solo comunicati congiunti, adesso la Meliam fa un comunicato da sola. Dicevi che prima occorrono soldi nelle trattative, soltanto con i soldi si parla. E se la Meliam davvero avesse questa disponibilità, secondo te, a quel punto che cosa accadrebbe? Perché comunque la trattativa sta andando avanti. Ma guarda Renzo, rispetto a qualche precedente trattativa, ho la sensazione che i conteggi siano anche più semplici. Questo Bari, preso così com'è, ha valore molto molto relativo, perché sono quasi tutti giocatori in prestito. Non sono giocatori di priorità, tranne pochissime eccezioni, quindi è un discorso anche diverso rispetto a quello che già potevi fare 3-4 anni fa. C'è da quantificare i debiti e penso che questo non sia un grosso problema, perché ci sono i posti per poter fare questi conteggi. Mi sorprende sempre di più che queste trattative siano fatte nel cuore dell'anno. Io sento addirittura, come ho sentito parlare 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, gli eventuali nuovi acquirenti pronti a fare già investimenti sul mercato. Andiamoci cauti, andiamoci cauti, perché chi arriva qui trova una squadra completamente rifatta. Giulio, diciamo che il segnale che probabilmente dà il via alla trattativa è il segnale legato al non pagamento degli stipendi del Bari. Io credo che quello segnale, infatti subito dopo si è parlato della Meriam, cioè nel momento in cui una società come il Bari, che in questo momento aveva avuto come fiora l'occhiello il fatto di onorare tutti i suoi impegni, improvvisamente non paga gli stipendi, cosa è accaduta il 30 settembre, forse questo dà la stura alla trattativa. Sono d'accordo, sappiamo anche che poi il Bari ha giustificato, ha spiegato, il Bari vanta dei crediti, ha fatto certe operazioni di mercato in cui i soldi possono, si possono, cioè bisogna aspettare per avere questi soldi. Quello che oggi il Bari non ha domani lo avrà, avrà probabilmente il doppio. Il resto dell'idea è che il Bari non lo dice, ma se potesse farebbe di tutto per andare in Serie A, perché una pronunzione in Serie A, qualcuno sorriderà in questo momento. Però una pronunzione in Serie A risolverebbe molti, molti le problemi del Bari. E poi bisogna chiedersi, Enzo, perché qui io sono contento, perché da te si può dire e raccontare, però bisogna chiedersi perché il Bari è arrivato al punto di non pagare gli stipendi, per la gestione sciagurata di chi ha condotto il mercato negli ultimi anni. Perché è troppo facile dire, Presidente, non spendiamo, prendiamo dei giocatori, li abbiamo da questa o da quell'altra squadra, ok, prendiamo, facciamo dei contratti. Il monte ingaggi del Bari, e tu lo sai bene, forse qualcuno lo sa, è più alto di quello del Palermo, della Serie A, dei due anni di Serie A, più alto di quello del Palermo. Il Palermo che aveva gente come il Pastore, Kier, Abel Hernández, il Signor Miccoli, avevano ingaggi inferiori a quelli del Bari. Con la differenza, il Palermo i giocatori li ha presi, li ha comprati uno e li ha rivenduti a cinque. In Bari questi giocatori se li è tenuti sul groppone, con ingaggi pesantissimi, che non ha neppure potuto fare come faceva in gestioni molto più antiche, in cui comprava, prendeva dei giocatori e poi li rivendeva al doppio o al triplo. Sappiamo che il Bari ha vissuto giustamente come ha fatto il Palermo, come farà l'Udinese, come faranno con le plus valenze. Però questo è un discorso che è abbastanza impopolare quello che stai facendo. Poi ai tifosi interessa l'operatore di mercato che ti costruisce la squadra che poi dal 0-4 di Bari-Lecce scala la Serie B, stravince un campionato e arriva decima l'anno successivo in Serie B. Ti faccio un'altra domanda, giusto per Serie A. Un'altra domanda. Se il Bari avesse venduto invece i giocatori nell'anno del decimo posto in Serie A, cosa sarebbe stato un affare? Cioè ti dico, è chiaro che dopo la retrocessione tutto è stato svalutato, ma se quell'anno avesse venduto quello che poteva vendere fondamentalmente oppure non avesse preso le metà di quei giocatori, secondo te in che stato si sarebbe... Intanto arriva il comunicato dalla Mediam. Non so se non una telefonata in linea, perché oggi stiamo chiacchierando da vecchi amici, Giulio Mola, per confrontarci, giusto per darvi un'idea. A volte siamo un po' nella parte anche perché altrimenti... Sì, è brutto sentire... Io ogni tanto leggo anche sul tuo blog, e mi spiace molto, si accusano i giornalisti di non raccontare, di non voler dire verità. Io non penso, io penso... Non lo dico perché qui, ma Enzo forse, guardandola più lontano, ci ho lavorato insieme anche qui a Bari, e magari ci fossero tanti giornalisti come lui. Non parlo qui a Bari, parlo in generale, dove si può dire liberamente, dove si parla senza alcun tipo di problema. No, no, ma è così, perché la colpa non è dei giornalisti. Non è dei giornalisti, i giornalisti quando possono raccontare, parla, racconta, magari non è detto che sappiano la verità assoluta, però cercheranno sempre di raccontare la verità. Giulio, il comunicato della Mediam, sono quattro righe. La Mediam S.p.a. dichiara di aver dato avvio alla due diligence, avendo ricevuto nella mattinata dei documenti contabili da parte della S.Bari. Il procuratore legale della Mediam S.p.a., avvocato Raffaele Di Monda, attraverso i suoi consulenti, si appresta alla verifica dei dati. Un comunicato scarno che, come dire, dà l'idea di un passo in avanti, in attesa che domani si arrivi al dunque. Un comunicato quasi formale per dire abbiamo ricevuto i documenti e quindi andiamo... Fare verifiche di questo livello in 24 ore mi sembra un po' approssimativo. A meno che non ci si sia portati avanti nei giorni scorsi. E poi anche qui, non capisco cosa serve a fare un comunicato formale. Cioè, fallo e basta, non c'è bisogno sapere. Cioè, questo perché vogliono farci sapere che è ancora tutto in piedi, che andrà tutto bene, così. Pertanto domani, aspettiamo domani. Sì, preferisco che... Cioè, io preferisco i fatti, non le parole. Poi, ti ripeto, saremo i primi contenti. Se dovessi arrivare... Io, sinceramente, avendo visto una squadra molti anni in Serie A e alcuni anni in Serie B, e avendo visto che figli hanno fatto molte altre società, dico che comunque, a questo punto, chi deve arrivare a Bari deve riuscire a far meglio. Perché i tifosi quello vogliono. I tifosi vogliono stare più stabilmente in Serie A. C'è una piccolina, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, io volevo chiedere a te e all'ospite la discesa del Bari. Potrebbe essere anche dovuta, almeno le voci che girano, che ci sono dei disguidi tra i fratelli Mattarese. E poi, ma è possibile che i figli di Vincenzo, di Antonio, di qualche altro fratello, non sono stati inculcati ad essere tifosi anche? Grazie, posso dirti una cosa a proposito dei figli? Io sono stato alcuni anni in ritiro, non ho mai visto figli dei Mattarese. Ci vanno tanti ragazzi in ritiro, perché i tifosi appassionati, evidentemente, come dire, per quanto possano essere ovviamente simpatizzanti, possano avere a cuore le sorti del Bari, non sono patiti. E quindi questa è la risposta per dirti che, dal punto di vista delle nuove leve, non credo che ci possa essere una continuità nella gestione. Non so se sei d'accordo, Giulio. Sul fatto che la famiglia e la famiglia non tutti possano essere d'accordo, tutti sono d'accordo fino a quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno male, probabilmente qualcuno dice, o può bastare, insomma, questo mi sembra di capire. Anche se poi magari, un po' perché tu sei legato, è come quando devi fare un po' delle posizioni in casa, non riesci mai a disfarti di un qualcosa a cui sei stato legato per tanti anni. E così adesso il Bari, è difficile che ci si possa liberare. La gestione Mattarese è la gestione più longeva, a livello di calcio professionistico, più importante addirittura di quella dei Berlusconi, celebrata quest'anno con i 25 anni. Il tifoso arriverà a ressi conto veramente. Lo so la risposta che ci arriverà di chi ci sta guardando. Anche noi da 35 anni non ne possiamo più. Ho capito. Però, ripeto, se arriva una persona che ci dice che è in grado di far meglio, di portare il Bari, minimo in Coppa UEFA, e poi magari farci pensare alla Serie B... Adesso basterebbe tornare in Serie A, perché questa Serie B è abbastanza deprimente. Con una squadra costruita con tante difficoltà, il Bari, adesso aspetteremo questi punti di pianizzazione, con tanti problemi, infortuni, ho visto anche la partita col Verona, con tanti giocatori indisponibili, è lì fra le prime 7-8 del campionato. Fermiamoci Giulio, c'è pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme col Biancherosso TV Sport, abbiamo anche la conferenza stampa di poco fa di Nicola Bellomo. Fra poco.